Hanno preso il via oggi i lavori di installazione del ponteggio davanti la casa natale di Calogero Marrone a Fevara. Dopodomani l'effettivo inizio dei lavori di demolizione, operazioni che se non ci saranno complicanze, ci dice il direttore tecnico dell'impresa affidataria, la ditta Pullara Calogero di Fevara, geometra Alessandro Vetro, dovrebbero terminare a fine mese. Provvedimento di demolizione emesso a seguito del crollo dello scorso 26 marzo del solaio del primo piano dello stabile. Il cedimento strutturale causò l'immediata chiusura al traffico della centralissima via Vittorio Emanuele provocando disagi e perdite economiche ai commercianti della stessa via che per l'intero periodo pasquale non hanno registrato incassi. I titolari delle attività commerciali che si affacciano nella via Vittorio Emanuele, come ricorderete, lo scorso 11 aprile segnalavano come il prolungato periodo di chiusura della strada potrebbe portare al fallimento delle loro attività. Al civico 30 di via Vittorio Emanuele nacque l'eroe di guerra Calogero Marrone, nonno di Manuela Marrone, moglie quest'ultima dell'ex leader della Lega Nord Umberto Bossi. Il figlio del senatore Renzo l'estate scorsa era venuto a Fevara ed aveva visitato il luogo dove era nato il suo bisnonno. Con l'inizio dei lavori eseguiti a mano dalla ditta Pullara si ristabilisce quindi la pubblica sicurezza nella centralissima via ma qualora non si riesca a salvare nulla a causa del ritardo con cui si sta attenzionando la struttura si potrebbe perdere un luogo simbolo della storia che ha avuto l'onore di accogliere al suo interno un figlio di questa terra di cui l'intera comunità dovrebbe essere orgogliosa.